Una violenta rissa tra due gruppi contrapposti di cittadini extra comunitari, uno scontro è nato per futili motivi a calci e pugni con tanto di casco usato contro uno dei partecipanti. È successo la scorsa domenica nella centralissima piazza Guido Monaco. Durante l'accesa colluttazione sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Arezzo che si trovavano già presenti nella zona per un controllo. Il tempestivo intervento ha permesso di prevenire ulteriori escalation di violenza. Tra le persone che sono state arrestate, i fermati sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma due volte al giorno presso gli uffici dei carabinieri. Un uomo è poi rimasto ferito, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai militari avrebbe partecipato attivamente alle violenze ed è stato così denunciato. Sono tuttora in corso delle indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa.